Via, 3 minuti e 40 ho solo, via Fatela bene che sono gli ultimi minuti che ho, dai Massimo Via, via, senti il cappotto Via, lavora di braccio, se ti fa male la gamba lavora di braccio Se ti fa male la gamba lavora di braccio, dai Toglielo quel calcio Tieni sulle mani, tieni sulle mani No, no, aspetta, aspetta Vai, lavora, stai finendo la mia cassetta Avrò due minuti, non di più, dai Forza, muovi il tronco Come può già fare Non vale uscire dal ring Un minuto Un minuto Massimo Un minuto No, no, non c'entra niente Non c'entra niente, come qua, vai Dai, sta finendo Jab, diretto al tronco Alterna sotto e sopra Dai, alterna sotto e sopra Circolare destro in volo Saltando Circolare destro saltando Calcia sotto Circolare destro saltando Circolare destro saltando Vi fammelo vedere quello Com'era? Com'era? 20 secondi 20 secondi In piedi, 20 secondi 15 15 15 secondi 14 Vai Dai tutto, dai tutto di braccio Dai tutto Dai tutto Dai tutto di braccio Dai Solo box Dai Solo box Gli ultimi 20 secondi Gli ultimi 20 secondi solo box Dai solo box Tieni, toglia Solo box Solo box È finito